Siamo alla sesta edizione dell'Ambulanza Vergante in Festa, oggi è un momento la domenica di festa per tutta l'associazione. Abbiamo inaugurato un mezzo di protezione civile che andrà a supporto del nucleo di attività di protezione civile della nostra associazione che ogni giorno lavora sul nostro territorio con attività di soccorso Piemonte 118, con l'attività di trasporto sanitario e con il trasporto socioassistenziale per anziani e disabili autosufficienti e non. La protezione civile è un braccio armato per le amministrazioni pubbliche e la realtà dell'Ambulanza del Vergante è un valore aggiunto non solo per il comune di Nebbiuno ma per tutto il nostro territorio. Sono sempre presenti e i volontari hanno fatto grande questa associazione che dedica molto tempo ai bisogni del nostro territorio ed è sempre disponibile alle necessità sia delle amministrazioni che dei singoli cittadini. Oggi è un momento davvero dove anche i folicoltori del territorio che ogni anno ci donano le loro piante per raccogliere fondi e l'associazione Pasticceri Novaresi che ha prodotto i nostri dolci e li ha offerti e l'associazione Cuochi Novaresi VCO che ha cucinato per la nostra tre giorni davvero un momento corale quindi per noi la festa estiva è un momento dove siamo sul territorio con gioia, musica, divertimento e festa e non solo per la nostra attività quotidiana di soccorso e attività sanitaria è però anche per noi un momento di condivisione del territorio delle nostre iniziative e di raccolta fondi per finanziare i nostri progetti.